Ciao a tutti, in questo video voglio parlare dei rapimenti alieni. Sei sicuro di non essere adotto, di non essere stato adotto? Allora, noi siamo abituati, diciamo così, le persone che si interessano di rapimenti alieni sono abituati a pensare che il rapimento sia il prendere fisicamente una persona e portarla su un'astronave oppure portarla, diciamo, su una base, su una base aliena a fare degli esami, degli accertamenti, delle cose, poi riportarla sul pianeta o nella sua condizione normale. Ora, in realtà ci possono essere, ci saranno sicuramente stati anche casi di rapimenti fisici e tra l'altro è interessante verificare, è abbastanza semplice verificare perché se delle persone si ritrovano, diciamo, delle cicatrici sul corpo e non sanno come se le sono procurate, se magari hanno sognato oppure hanno dei ricordi vividi di situazioni in cui esseri mettevano delle, diciamo, dei congegni nella cavità nasale oppure in un orecchio, in un occhio oppure magari persone che trovano oggetti fuori posto dal proprio corpo cioè anelli, collane, piercing allora, queste potrebbero essere tracce di rapimenti alieni avvenuti da un punto di vista fisico però esiste una, diciamo, un'altra forma di rapimento alieno che è quello mentale, quello psichico tutte le tradizioni praticamente parlano delle possessioni anche la tradizione cristiana ma non soltanto la tradizione cristiana in ogni epoca sulla Bibbia c'è scritto molto, ad esempio, delle possessioni queste possessioni di persone che appunto credono di essere possedute da un'altra entità a questa entità viene normalmente attribuita l'etichetta del male l'etichetta del demonio in realtà, diciamo, qualunque entità sia è un'entità aliena cioè alieno significa un'entità estranea un'entità che non fa parte della persona stessa ora, esistono diverse forme di vita alcune hanno bisogno di un supporto psicobiologico altre no vi sono delle forme di esistenza che sono forme di esistenza puramente energetiche energetiche nel senso che anche il corpo è energia non c'è differenza però è un'energia che vibra a una frequenza più bassa diciamo così che in un percorso evolutivo o comunque evoluzione intesa come capacità di liberarsi sempre di più, diciamo così, dai fardelli della materialità il corpo tende a diventare sempre più sottile sempre più etereo fino a diventare sempre energia ma energia sottile come un passaggio di dimensione si dice che anche il nostro pianeta dovrà effettuare un passaggio di dimensione in questi casi comunque esiste un ecosistema energetico quali sono gli abitanti di questo sistema energetico? intanto sono alieni nel senso che non sono provenienti dal nostro pianeta addirittura non sono provenienti da questo spazio dimensionale noi esseri umani però condividiamo anche un altro spazio dimensionale come esseri umani infatti siamo partecipi di un piano completamente energetico ad esempio quando sogniamo entriamo in un'altra dimensione quando si entra in un'altra dimensione si entra in contatto con figure provenienti da un'altra dimensione questo è un qualcosa di abbastanza scontato durante il sogno entriamo in contatto con diversi esseri del sogno questi esseri del sogno possono essere forme di intelligenza e in qualche modo queste forme di intelligenza possono generare quella che viene chiamata parassitosi o adduzione mentale o adduzione psichica cioè entrano come dire in contatto con la nostra mente energetica con la nostra parte energetica andando a parassitarci cosa vuol dire parassitarci? vuol dire che prendono il controllo dei nostri campi di energia influenzandoci più pesantemente nelle nostre decisioni ma soprattutto influenzando quelli che sono le nostre paure le nostre paure più profondi in alcuni casi possono generare addirittura delle situazioni legate ad ansie a paure a vera e propria ora uno dice ma perché? qual è il loro obiettivo? beh, il loro obiettivo molti ricercatori dicono che il loro tra cui cito Corrado Malanga ad esempio il loro obiettivo è quello di prendere energia da noi prendere energia per un loro fabbisogno per allungare quella che è la loro esistenza o addirittura alla ricerca dell'immortalità cosa che noi umani diciamo abbiamo perché noi umani abbiamo un continuum mentale profondo che prosegue nel tempo non è detto che molte di queste che tutte queste entità abbiano anche questa parte animica se vogliamo che è un continuum mentale indipendente dallo spazio e dal tempo quindi non è detto che queste forme di energia siano poi così evolute nella dimensione per così dire astrale o nelle altre dimensioni diciamo non materiali esistono diverse forme di energia esistono diverse intelligenze alcune delle quali possono essere completamente fuori controllo rispetto all'essere umano cioè portatori soltanto di esigenze energetiche nei nostri confronti un po' come noi se fossimo delle delle batterie diciamo così di cui possono cibarci un po' quello che noi facciamo tutto sommato con gli animali ci utilizziamo gli animali mangiandoli per acquisire energia non soltanto dagli animali ma anche dai frutti dagli alberi eccetera tutto quello che noi mangiamo in realtà lo facciamo per tra virgolette allungarci la vita per sopravvivere e queste entità hanno altri fabbisogni energetici sono fabbisogni energetici legati proprio all'energia l'energia che noi possiamo erogarli erogarli in che modo beh ad esempio attraverso le nostre paure beh pensate un attimino quando siete siete in uno stato di panico di paura come dire siete in un quid energetico molto alto e quindi emettete energia no e questo può essere questa energia può essere utilizzata da questa entità che in qualche modo se la prendono oppure oppure anche quando si è in un stato depressivo invece si è noi in un'energia bassa perché come se qualcuno ci togliesse sempre energia quindi ad esempio molti stati depressivi potrebbero anche essere dovuti a situazioni di parassitosi aliena quando parlo di alieni intendo stranei cioè non appartenenti al nostro corpo non è non appartenenti a questo pianeta o perlomeno non appartenenti a questa dimensione sicuramente parlando di alieni si pensa subito all ET diciamo in carne ed ossa che non è detto che non abbiano pure fatto la loro comparazione anzi sicuramente ci sono stati degli alieni che hanno visitato il nostro pianeta e hanno anche interagito con noi e probabilmente ci hanno pure creato diciamo così nel senso di modificato geneticamente alcuni diciamo ominidi presenti sul pianeta stesso questo diciamo verrebbe quasi difficile non negarlo perché anche se viene negato diciamo la massa non ha queste credenze però tutti i testi antichi raccontano la stessa storia allora un'unica storia viene raccontata in diverse parti del mondo da persone completamente diverse con culture completamente diverse qui andiamo dagli egizi ai sumeri agli incas ai maya ai racconti dei nativi americani degli aborigeni australiani quindi diverse in diverse popolazioni anche diciamo nell'occidente nella Roma antica ad esempio molti molti studiosi hanno hanno raccontato anche addirittura hanno raccontato di guerra di scontri diciamo così tra gli dèi o tra ah beh l'antica Grecia insomma tutte le culture raccontano la stessa storia raccontano anche di abitudini simili di questi fantomatici dèi che erano ovviamente questi in carne ed ossa però non sono soltanto le uniche forme di esistenza anzi io credo che il numero di persone rapite tra virgolette da un punto di vista fisico se c'è stato è sicuramente enormemente inferiore alle diciamo alle parassitosi mentali basta pensare che insomma ha tutte le patologie che oggi vengono classificate come patologie però in realtà potrebbero anche essere collegate a fenomeni di abduzione quindi ci sono vari metodi per capire o per eliminare diciamo così le possibili interferenze ci sono metodi legati all'utilizzo dei colori ma anche all'utilizzo proprio della meditazione in meditazione noi possiamo creare degli schermi eliminare delle interferenze abbiamo questo potere perché in realtà il potere dell'essere umano è superiore a quanto noi crediamo che fosse o che sia insomma quindi abbiamo queste capacità di liberarci però per liberarci di qualcosa dobbiamo renderci conto che questo qualcosa c'è esiste bene per questo video è tutto seguimi anche sulla pagina instagram massimo taramasco iscriviti al canale iscriviti al mio nuovo canale felicità benessere di cui ti posto il link in descrizione ciao a tutti ciao a tutti